Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del let's play di minecraft. Nella scorsa puntata ho costruito la farm di pecore che vedete alle mie spalle. Mi sono anche dimenticato di dirvi che oltre alla carne cotta con questa farm è possibile recuperare della lana e questo direi è abbastanza utile. Nella puntata di oggi mi sposterò nella zona del mulino a vento perché ho da costruire qualcosa di nuovo. A questo punto vado a preparare tutto il materiale necessario e ci vediamo al mulino. Ok ragazzi sono arrivato qui nella zona del mulino che vi ho fatto vedere anche nello scorso episodio. Vi faccio vedere un po' che cosa mi sono portato. Un bel po' di materiale di redstone perché andremo a costruire anche un circuito oggi e del materiale da costruzione perché oggi andremo a fare un pozzo e voi vi direte ma te che scusa ma un pozzo che cosa stai costruendo? Voglio dire vado nell'acqua prendo il secchio d'acqua e lo riempio. Eh sì ragazzi è vero però io voglio costruire qualcosa di particolare ossia un pozzo dove noi possiamo lanciare un secchio vuoto e ci restituisce il secchio pieno d'acqua oppure se lanciamo all'interno del pozzo il secchio pieno d'acqua ci dà il secchio vuoto quindi una cosa fatta in automatico. Lo so magari qui è una zona dove non ci servirà tantissimo l'acqua ma dato che volevo aggiungere altri dettagli a questa zona ho pensato di fare un pozzo ma fare solo quello era troppo semplice così ho pensato a questo meccanismo. Ok ragazzi la prima cosa che devo fare qui come vedete ho piazzato la prima pietra è quella di scavare tutto qui intorno per preparare la zona dove farò il circuito che vedrete non sarà proprio così semplice da costruire ma sicuramente molto interessante. A questo punto ragazzi lasciatemi lavorare pure off camera tanto devo preparare questo buco e ci vediamo appena avrò terminato. Ok ragazzi come vedete lo scavo per ospitare tutto quanto il meccanismo è pronto adesso andiamo a costruire qualcosa. Naturalmente come sempre sono dovuto tornare a casa perché mi ero dimenticato dell'andesite. Allora adesso devo anche craftarmi un altro dropper che mi ero dimenticato. Allora facciamo il dropper ok così e quindi avremo in totale 4 dropper un dispenser e 5 hopper che adesso andremo a piazzare. Allora mi preparo un attimino qua di oggetti perfetto e andiamo a costruire il nostro meccanismo. Allora partiamo con il fare la parte in cui noi potremo andare a lanciare i nostri secchi che si riempiranno o si svuoteranno a seconda del secchio che andremo a lanciare. La parte dove potremo lanciarli sarà grande due per due blocchi. Adesso andiamo a mettere dell'andesite. Ok qua allora mettiamo due di andesite qua due di andesite qua che faranno un pochino il contorno del nostro pozzo quando ci sarà l'acqua più o meno a questo livello. Ok adesso andiamo a mettere invece i nostri dispenser e i nostri hopper. Allora qui mettiamo il dispenser rivolto verso di noi in questa maniera. Qui invece dobbiamo mettere un dropper rivolto verso questo dispenser così e qui dovremo mettere un altro dropper di questi rivolto verso quest'altro quindi con la faccia verso l'alto. Quindi così e dobbiamo metterlo così. No così no. Vediamo se riusciamo. Dobbiamo essere un po' più in alto. Forse è sempre un'operazione difficile da mettere questa qua. Allora vediamo dovrebbe essere a posto adesso. Perfetto. A questo punto dobbiamo mettere i nostri hopper. Allora gli hopper devono entrare tutti in questo dropper qua. Quindi mettiamo uno così uno così uno così uno così e un altro così. In questa maniera qualunque cosa entri in questa parte andrà a finire qua dentro. Poi dobbiamo mettere adesso altri due dropper. Allora prima di tutto mettiamo una terra qua in modo che ciò che diciamo entra di qua esce cioè scusate quello che arriva qua va in questa parte qui. Allora aspettate che devo fare così ecco l'uscita di questo e qua dobbiamo mettere due dropper rivolti verso l'alto. Allora andiamo a mettere vediamo dov'è la redstone no ci usiamo la terra così allora saliamo mettiamo un blocco vediamo se riusciamo anzi forse facciamo prima far così ragazzi guardate così ok tolgo temporaneamente questo ok e mettiamo un dropper così e un altro dropper sopra ok e abbiamo finito questa prima parte del meccanismo cioè quella che va a prendere i vari secchi e li va a riempire con l'acqua. Adesso dobbiamo fare la parte del meccanismo con la redstone che va a muovere tutto quanto ci vediamo tra poco. Ok possiamo riprendere il lavoro innanzitutto vi dico che ho scavato un altro blocco in profondità quindi ci troviamo a sei blocchi in totale e ho dovuto spostare anche questo blocco di redstone. In ogni caso noi dobbiamo fare questo mettiamo della cobblestone qua qua sopra mettiamo una torcia di redstone che adesso vado a craftarmi allora me ne servono in tutto tre per questo lavoro ok la mettiamo qua sopra in modo che vada a bloccare questo o per qua poi qua dobbiamo mettere ops questo non serve due repeater che ora vado a prendere nella cassa che ho qua sopra ok dove sono i repeater prendiamo anche il comparatore perfetto e scendiamo a mettere i repeater. Allora dobbiamo metterne uno qua con ritardo massimo e un altro qua con ritardo massimo. Poi qua dobbiamo andare a mettere la redstone così e far salire il segnale sopra quindi mettere così questo togliamo ok quindi cobblestone qua e cobblestone qua. Poi mettere redstone, redstone e redstone in modo che questa sia unita. Poi andiamo a mettere altri due blocchi di cobblestone e altri due repeater sempre col massimo ritardo disponibile. Ok poi qua sopra mettiamo della cobblestone così qua una torcia di redstone esterna dell'altra cobblestone qua quindi portiamo il segnale qua sopra e un'altra torcia di redstone qua che ovviamente si spegne e quindi va poi a muovere questo dropper qua. Qua sopra dobbiamo mettere della redstone e qua sopra un altro blocco di cobblestone. Poi ci serve anche della cobblestone qua e qua sopra della redstone così. Ok poi andiamo a mettere cobblestone qua sopra e cobblestone qua. Adesso vado a togliere questa che non ci serve e ancora della cobblestone qua sopra. Ok ragazzi così. E qua sopra un altro repeater. Vediamo se riesco a metterlo. Vediamo un po' dove ho messo la terra. Così ok. Il repeater ci serve qua rivolto verso quella parte lì sempre con massimo ritardo. Ok anche questa parte l'abbiamo conclusa. Adesso ci manca la seconda. controllo che sia tutto a posto e continuiamo il lavoro. Perfetto controllato e tutto il meccanismo funziona. Allora dobbiamo scendere qua adesso e andare a aggiungere altri blocchi. Allora mettiamo della cobblestone qua e anche qua così. Ok esattamente due blocchi così e un altro blocco qua. E poi ci serve un altro blocco qua sotto. Vediamo se riusciamo a metterlo così. Perfetto. Ok allora qua dobbiamo ricordarci di mettere una torcia di redstone. Quindi qua così. Ho mollato qualcosa ma non importa. Poi adesso saliamo un attimo qua dove ho messo la mia terra. Eccola qua. Allora saliamo. Qua dobbiamo mettere della redstone. Così. Oh 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 oh. Ok. E un'altra torcia di redstone qua così. Ok sempre mollo gli stick non so per quale motivo. Ok. E qui sotto ragazzi dobbiamo andare a mettere il nostro comparatore. Così. Ok. poi ci manca ancora qualcosina qua. Ossia un altro blocco di cobblestone qua sotto. Allora saliamo ancora con la nostra terra. Andiamo a fare un po' un'impalcatura qua. Ok. Così. E un altro blocco di cobblestone praticamente a questa altezza qua. Quindi qua. Ok. Togliamo anche questo. Così. Perfetto. saliamo ancora un attimo. E qui ci serve l'ultimo nostro repeater. Così. Questa volta verso questa parte qua. Così. Con ritardo massimo sempre. E qua sopra della redstone. E ragazzi credeteci o no dovremmo aver finito tutto quanto. Ora voi direte funzionerà questa cosa. Adesso la andiamo a provare immediatamente. Allora per poterla provare io prima di tutto farei una cosa di questo tipo. Allora togliamo innanzitutto questa terra qua. Così. Che non ci serve. Poi andiamo a mettere comunque dei blocchi qua di cobblestone in modo da chiudere. E a questo punto andiamo a riempire con l'acqua il nostro pozzo. Allora qui dovrei avere un secchio. Anzi l'ho portato qua. Quindi ci prendiamo i due e tre secchi d'acqua in modo che uno e due li riempiamo qua. Allora in modo da fare la solita fonte di acqua infinita. E la mettiamo qua. Allora quindi una da questa parte e una da quest'altra parte. E abbiamo la nostra fonte di acqua infinita. E adesso ragazzi proviamo a vedere se funziona. Se io lancio questo secchio in teoria dovrebbe uscirne un altro in questo punto pieno. Allora andiamo a mettere io questi due che ci confondono. Lanciamo il secchio. Il meccanismo dovrebbe partire. Eccolo qua. È caduto qua ma poi l'abbiamo riempito. Se io invece vado a lanciare quello pieno. Un attimo di pazienza. E voilà. E abbiamo ritrovato il nostro secchio vuoto. Ok ragazzi. penso che il meccanismo funzioni. È veramente fantastica questa cosa. È veramente fantastica. Adesso ovviamente devo andare a chiudere un pochino tutto quanto e fare la decorazione vera e propria del nostro pozzo. Ci vediamo tra poco appena avrò sistemato questa parte. Ok ragazzi. Come state vedendo ho chiuso tutta questa parte. Ho lasciato solamente questa scaletta per poter scendere e quindi andare ad esplorare il meccanismo. Ecco qua. Quindi potete curiosare come tutti gli altri meccanismi nel mio mondo. Allora saliamo e andiamo a chiudere questo buco perché così non si vede più nulla. E adesso possiamo iniziare a costruire il vero e proprio pozzo. Allora innanzitutto mi servono delle vines perché ho bisogno della cobblestone con sopra del muschio. Allora vado a craftarmi una cesoia così anzi delle cesoie. Andiamo a prendere queste vines qua. Ok. Ne prendo un po'. Quante ne ho adesso? 5. Me ne servirebbero almeno 12 direi. Allora prendiamo 6. Prendiamo un po' ancora. 9, 10, 11 e 12. Ok. 12 vines. Adesso andiamo a craftarci la cobblestone con il muschio. Allora andiamo alla crafting table. Eccola qua. Allora ci prepariamo della cobblestone con il muschio. Poi dei muretti normali e dei muretti con il muschio. Così. E andiamo a iniziare la nostra costruzione. Allora io farei degli scalini messi così. Ok. Perfetto. In modo da fare un contorno. Poi qua metto dei mezzi scalini. Questi. Poi vado a spiegarvi il motivo per cui metto questi mezzi scalini qua. Così. Poi visto che ho questo muschio vorrei sostituire alcuni di questi blocchi qua con quelli col muschio. Quindi direi uno due qua e un altro qua. Allora andiamo a mettere questi qua col muschio. Un avvertimento ragazzi. Dovete stare molto attenti a non far cadere altri tipi di blocchi che non siano i secchi qua dentro. Altrimenti il meccanismo si inceppa e continua a diciamo a girare e quindi a sputarvi fuori una cosa e riprenderla in continuazione. Allora andiamo ora a fare una specie di tetto. Diciamo così. Allora qua usiamo i muretti con il muschio per fare da sostegno. E qua invece usiamo quelli normali. Così. Anche di qua. Perfetto. E anche di qua. Ok. Ora saliamo e facciamo il tetto. Allora usiamo questi blocchi qua. Saliamo su. Qua metterei ancora questi. Quindi saliamo qua. Allora tac tac tac. Poi mettiamo questi altri blocchi qua. Quindi qua in giro. Uno due tre quattro cinque sei sette otto. e qua sopra chiudiamo il tetto con questi mezzi qua. Allora facciamo così. Perfetto. E andiamo a togliere questo. Ora mi sono fatto un'accetta. Ok. Perfetto. Ora scendiamo. Togliamo la terra. Perfetto. e andiamo a fare una specie di tettoia spiovente. Questa volta con gli altri blocchi che ho lasciato qua dentro. Credo. Ah no li avevo. Ecco non li vedevo. Perfetto. Allora andiamo a mettere questi. Quindi facciamo una tettoia spiovente così. Ok. Anche di qua. e di qua. Ok ragazzi. Bene o male il nostro pozzo è finito. Ora come vedete però il nostro giocatore rischia di cadere qua dentro. Allora andiamo a mettere delle fence. Allora mi preparo le fence. Allora si fanno così. Ne voglio sei visto che due le avevo già. Quindi facciamo così. Perfetto. E andiamo a piazzarle qua. Allora la funzione di queste fence è ovviamente quella di evitare che il nostro giocatore possa cadere nel pozzo. Infatti se arriviamo qua. Come vedete anche saltando non riusciamo ad andare giù. Ho messo però questi mezzi scalini perché quando andiamo a lanciare il nostro secchio rischiamo che colpisca queste fence e non arrivi lì dentro. Quindi in questa maniera è molto più facile lanciare il secchio. Adesso andiamo a provare il nostro meccanismo. Allora vi dico che dobbiamo stare in questa parte qua che è molto meglio. Quindi lanciamo il secchio. Attendiamo che il meccanismo funzioni. E voilà nel nostro inventario è arrivato il secchio pieno. Adesso lanciamo di nuovo il secchio. Andiamo a svuotarlo. Ok secchio vuoto. Ora andiamo a riempirlo ancora una volta. Ok. E voilà ragazzi. Il meccanismo funziona perfettamente. Allora mi stavo dimenticando di una cosa importante perché ho pensato di mettere qua al posto di questi due blocchi qua quindi questo e quest'altro della glowstone in modo da rendere un pochino più luminoso il pozzo. Allora andiamo a togliere questo blocco. Spero di non far danni. Penso di no perché sotto non dovrebbero esserci i meccanismi di redstone. A meno spero. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a uscire da questo buco. Adesso sì togliamo questo pezzo qua. Ok. Andiamo a rimettere la nostra cobblestone e a chiudere. Ops. Ok. Mettiamo di nuovo la fence. E andiamo a provare ancora una volta il meccanismo così vediamo se funziona ancora. Lanciamo il secchio. Dai. Perfetto. Secchio vuoto. E. Secchio pieno. Perfetto ragazzi. Abbiamo finito. Ok. Il meccanismo funziona perfettamente. Abbiamo finito anche in tempo perché sta facendo notte. In ogni caso l'ultima cosa che volevo dirvi è ho messo questo pozzo in questa zona perché siamo vicini al fiume quindi ha un senso. E poi più avanti quando finirò la decorazione di questa parte andrò a fare un sentiero qua in mezzo al campo di grano che poi si unirà a un altro sentiero che parte dal mulino e arriva poi nella foresta. Questo è il progetto che farò in futuro. Ok ragazzi siamo giunti anche oggi al termine di questo episodio. A questo punto ci vediamo sulla torre della mia casa per rispondere a una delle vostre domande. Ok prima di rispondere a una delle vostre domande voglio aggiornare il diario degli iscritti visto che me l'avete chiesto nei commenti con l'ultimo traguardo raggiunto dal canale. E cioè quello degli 86.000 iscritti. Esattamente il 21 ottobre 2015. Ragazzi io non mi stancherò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate ogni giorno. Quindi perché mettete mi piace, perché fate dei commenti, perché vi iscrivete al canale. Ribadisco che i mi piace e i commenti sono lo strumento migliore che voi avete per comunicarci se il video che state vedendo vi piace oppure no. Ed è per noi uno strumento importante per capire se il contenuto che vi stiamo portando è per voi divertente e quindi nel caso cambiare qualcosa. Quindi continuate ad utilizzare gli strumenti che la piattaforma di YouTube vi mette a disposizione. Ok andiamo a riporre quindi il diario e passiamo alla domanda di oggi che devo dire è piuttosto interessante e me la posta Paolo che mi chiede Tec, secondo te YouTube è cambiata negli ultimi anni? Dunque io sono su YouTube da circa tre anni e mezzo e devo dire che le cose sono cambiate parecchio ma forse è cambiato anche il pubblico che usufruisce di YouTube. Penso che tre anni e mezzo fa non tutti avevano accesso a YouTube attraverso i telefonini o i tablet. Oggi ci sono molte più persone e quindi c'è un desiderio maggiore di nuovi contenuti. Quindi se una volta un video con una bella intro, un montaggio elaborato faceva colpo e quindi c'erano molte visualizzazioni e anche molte persone si iscrivevano al canale, oggi forse conta di più la quantità di video che si fa. Quindi più video si fanno più persone diciamo seguono quel dato canale. Questo non vuol dire che un video con un montaggio oppure senza montaggio o con un audio gracchiante o scattoso come per quanto riguarda il frame rate possa fare effetto. Sicuramente il video va curato però penso che la quantità in questo momento sia più importante della qualità stessa del video. Io in questi anni ho comunque cercato di restare sempre con la stessa qualità nei video. Quindi infatti vedete ci sono sempre le stesse cose, le stesse intro, ho cercato di aggiungere magari qualche contenuto in più, altri video. Però ragazzi ho sempre cercato di fare un buon lavoro sui miei video. Però sicuramente farne di più oggi paga di più. Ecco se vogliamo. Quindi ragazzi se in questo periodo state aprendo un nuovo canale non solo dovete stare attenti a fare un buon video ma dovete anche farne un buon numero in modo che abbiate molta più visibilità. E quindi non pretendete però ragazzi di avere centinaia di iscritti in poco tempo. Tutti quanti ci siamo passati e tutti quanti abbiamo fatto fatica all'inizio. Questo lo dico perché trovo tantissimo spam che è assolutamente inutile su YouTube. Ve lo dico perché YouTube va a cestinare automaticamente tutti quei messaggi e anche gli YouTuber stessi li vanno a cancellare. Quindi non serve assolutamente niente fare dello spam. Anche perché dovete sapere che YouTube si basa sulle visualizzazioni. Perché YouTube è una società a scopo di lucro. Quindi dalle visualizzazioni prende i soldi dalle pubblicità e non dal numero di iscritti. Quindi un canale con un milione di iscritti ma poche visualizzazioni conta per YouTube molto meno di un canale con pochi iscritti ma tante visualizzazioni. Quindi per fare visualizzazioni bisogna fare buoni contenuti e farne anche tanti in questo periodo. Bene spero di aver riassunto un attimino quali sono secondo me i cambiamenti che ha avuto YouTube negli ultimi anni e spero appunto di essere anche in accordo con i vostri pensieri. Bene ragazzi rispondo anche a un'altra domanda rapidamente visto che me l'avete chiesta spesso nei commenti cioè quando andrò ad aggiornare il download della mappa. Vi dico molto presto ragazzi perché volevo aspettare in realtà di finire alcune cose però come avete visto il lavoro al campo di grano è abbastanza lungo quindi credo che non attenderò di terminare quel lavoro che porterò avanti piano piano. Quindi ragazzi molto presto aspettatevi il download aggiornato della mappa. Bene spero di aver detto tutto quanto a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!